diamond crypto smartphone 1.3 milioni di euro ad oggi non sembra un granché nell'aspetto ma a suo tempo nel 2006 questo telefono è stato un record nel lusso e sicuramente per un periodo è stato cellulare più costoso al mondo punto di forza e la sicurezza del telefono ma ciò che rende il prezzo così fuori dal mondo sono i diamanti che circondano l'intera scocca in tutto 50 diamanti che ricoprono il cellulare disegnato da peter ellison probabilmente il valore della macchina senza i diamanti si aggira sui 600 euro ma c'è una bella differenza goldfish le milioni 1.3 milioni di euro sicuramente uno dei più brutti da vedere ma tra i più costosi di sempre stessa filosofia del precedente macchina semplice ma ricoperta da una scocca di diamanti euro bianco 18 carati che portano il prezzo a salire vertiginosamente correva sempre l'anno 2006 e fece storia quando un uomo d'affari russo lo comprò per primo alla modica cifra di 1.3 milioni di euro iphone amus call of diamond 2.7 milioni di euro avete ben chiaro il logo apple sul reto di ogni iphone in questo caso è fatto di diamanti ma non sono le uniche pietre preziose presenti sul cellulare ce ne sono in tutto 6.000 e sono piccolissimi e tutti rigorosamente incastonati a mano quindi immaginate che produrre questo speciale modello di iphone ci vogliono due mesi e pensate che si tratta di uno smartphone scocca a parte tra i top di gamma del momento e quindi ecco che il prezzo arriva a cifre astronomiche quelle che conosce bene il lusso sfrenato ma sempre in meno persone iphone 5 black diamond 15.3 milioni di euro ricordate l'iphone 5 ora è passato di moda è stato superato dal 6 e dal 7 sembra quasi un esemplare dimenticato ma c'è questo modello che ha delle caratteristiche particolarmente lussuose steward hoogs lo ha modificato con un diamante nero e non è l'unico diamante presente sullo smartphone ci sono anche oro e altre pietre preziose realizzato in tintura più che limitata anche questo pochi anni fa è stato un record pronunciare il nome di questo ultimo modello è come pronunciare uno scioglilingua falcon supernova pink diamond iphone 6 95,5 milioni di euro se per ordinare questo smartphone sono stati richiesti 4.500 dollari immaginate il prezzo finale per chi volesse c'è una versione più economica rivestita in platino con un diamante blu e venduta al prezzo di 48,8 milioni di euro altrimenti il top della gamma è quello rivestito in oro 18 carati con un gigantesco diamante rosa sul retro che da solo manda intilti il prezzo